Un mondo nuovo. E questo è il titolo del film, diretto da Alberto Negrin, che rievoca la storia di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita, proiettato ieri a Nuoro nell'aula magna del Consorzio Universitario, nell'ambito della rassegna Europe Summer Movie, una rassegna cinematografica promossa dal Centro Europe Direct del Comune di Nuoro, in occasione del 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, istitutivi delle comunità europee. Una proiezione inserita anche nel programma della Summer School sul futuro dei diritti umani in Europa, che si sta svolgendo presso il Consorzio Universitario, unitamente alla Summer School, sui fondamenti del diritto contrattuale europeo. La rassegna è stata introdotta da Salvatore Boedo, responsabile dell'ufficio Europe Direct di Nuoro, e ha visto come ospite d'eccezione Piervirgilio Dasturi, già assistente parlamentare di Altiero Spinelli, e attualmente presidente del Movimento Europeo in Italia. In sala i docenti e partecipanti alle due Summer School. Un mondo nuovo rievoca le vicende di Altiero Spinelli e dei ragazzi di Vento Ottene, dove un gruppo di antifascisti venne confinato dal regime. Nel giugno 1941 Spinelli, col contributo di Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, scrisse il cosiddetto Manifesto di Vento Ottene, il Manifesto per un'Europa libera e unita, che rappresenta il documento fondamentale del federalismo europeo. Una visione politica lungimirante e profetica, quella di Spinelli, che in quei giorni guardava oltre la guerra, che stava sconvolgendo il continente europeo per disegnarne un futuro fatto di pace e collaborazione tra i popoli. Quelle stesse nazioni che in quei frangenti si stavano distruggendo in una guerra fratricida. Il film è andato in onda sulla RAI e un omaggio ad Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita Democratica, che ancora oggi in Italia stenta ad avere il giusto riconoscimento che merita.